Ciao a tutti ragazzi, in questo video facciamo una correzione di uno dei problemi che ho assegnato per le vacanze in modo da cercare di velocizzare un pochino l'opera di correzione che stiamo facendo visto che appunto da l'altro non mi va di assegnare nuovi compiti se non abbiamo corretto quelli vecchi e però appunto così facendo non vi lascio quasi niente da fare a casa e di conseguenza ho pensato di farvi una correzione da studiare in modo che posso lasciarvi da fare questo di compito e eventualmente se naturalmente ci sono ancora domande me le potete comunque fare quando ci vediamo allora in questo esercizio si suggerisce un modo con cui si potrebbe per esempio determinare il coefficiente di attrito dinamico tra un oggetto, magari un telefono che lancio e faccio scivolare su un tavolo potrei così determinare facendo qualche misura il coefficiente di attrito dinamico ma come? quindi qui abbiamo il testo dell'esercizio c'è il nostro amico Johnny che vuole determinare lancia questo blocchetto con una certa velocità iniziale supponiamo che possa conoscerla in qualche modo magari potrebbe lanciarlo con un macchinario che lancia gli oggetti sempre alla stessa velocità nota e osserva che il blocchetto rallenta fino a fermarsi e di modo uniformemente accelerato conoscendo la velocità iniziale e la distanza di arresto se vi ricordate si può trovare l'accelerazione o meglio noi abbiamo trovato la distanza di arresto conoscendo l'accelerazione e la velocità iniziale e vorrei che andassi a ripassare questo esercizio un buon momento per farlo e quindi viceversa con una formula inversa si può trovare e se conosciamo la velocità iniziale e misuriamo la distanza di arresto possiamo scoprire qual è stata l'accelerazione con cui il nostro oggetto ha frenato possiamo risalire sapendo questa cosa eventualmente misurando la massa dell'oggetto al coefficiente attrito e in realtà servono entrambe queste grandezze oppure ne servono altre che non abbiamo individuato quindi per rispondere a queste domande possiamo appunto provare a impostare il problema e ce ne accorgiamo naturalmente di quali grandezze ci servono a partire dalle equazioni che scriviamo ora, i suggerimenti erano due uno dei suggerimenti era provare a rileggere seguire i passi suggeriti nella guida alla soluzione dei problemi che vi ho scritto e anche perché avevo usato come esempio di equazioni proprio quelle che servono per risolvere i problemi in esame e quindi, insomma, pensavo che ve ne sareste accorti se solo aveste letto questa guida proviamo a fare i primi punti della nostra guida seguiamo la guida quindi facciamo analisi preliminare se l'oggetto è spinto, è tirato quali sono, com'è il moto, come potrebbe essere e poi, più precisamente, individuiamo le forze agenti e stabiliamo un sistema di riferimento quindi la situazione è in analisi preliminare abbiamo l'oggetto che qualcuno lancia con una certa velocità iniziale e noi, insomma, lo analizziamo mentre frena quindi l'oggetto poi viene lasciato a se stesso e si ferma sotto l'azione della forza di attrito quindi ha una certa velocità supponiamo verso destra e lo disegno qua perché poi voglio disegnare le forze normalmente la velocità anche la disegniamo con la coda sul centro del corpo la disegno un po' spostata per non pasticciare quando vado a disegnare le forze sistema di riferimento abbiamo abbastanza naturale mettere un asso orizzontale in corrispondenza del piano in cui avviene il moto e ci mettiamo un asse X e l'asse Y, per esempio cioè l'asse Y è per forza perpendicolare a questo quindi lo possiamo orientare così individuiamo le forze sicuramente c'è la forza peso una forza di gravità verticale verso il basso c'è la forza normale verticale verso l'alto o meglio perpendicolare alla superficie appunto quindi viene verticale verso l'alto in questo caso non sempre e poi c'è la forza di attrito che è in verso opposto a quello del moto verso del moto come sappiamo indicato dal verso della velocità quindi queste sono le nostre forze forza normale esercitata dalla superficie del pavimento forza di gravità esercitata dal pianeta Terra e forza di attrito sempre esercitata dalla superficie del pavimento ma in senso diciamo parallelo alla superficie e non perpendicolare quindi queste sono le forze agenti un possibile errore che ho visto fare in esercizi di questo tipo è rappresentare una un'altra forza quindi queste sono tutte le forze agenti in questo caso ho visto rappresentare un'altra forza diretta verso destra a volte e le persone individuano nella sorgente di questa forza la persona che spinge quindi è come se chi ha spinto questo oggetto avesse immagazzinato in un certo senso una forza nel corpo e o forse tratto in inganno dal fatto che la velocità è verso destra e quindi le persone identificano un movimento verso destra con una forza agente verso destra seguendo quello che pensava Aristotele e non avendo imparato la lezione di Galileo Newton che invece ci hanno insegnato che le forze non sono legate alla velocità quindi al moto al verso del moto ma sono legate all'accelerazione quindi come questa velocità cambia quindi in conseguenza il fatto che ci sia una velocità non ci dice che c'è una forza agente il fatto che ci sia un cambiamento di velocità ci dice che c'è una forza agente e il cambiamento di velocità avviene in diminuzione questa velocità sta diminuendo questo vuol dire che c'è un'accelerazione di scorde alla velocità e questo viene dato dalla forza di attrito che appunto discorda la velocità quindi non c'è nessuna forza agente verso destra una forza agente verso destra eventualmente ha agito prima quindi non bisogna farsi trarre in inganno da questo quindi c'è naturalmente se l'oggetto è stato lanciato dal nostro Johnny c'è stato un momento in cui la mano di Johnny ha spinto l'oggetto d'accordo quindi magari qui c'è la mano di Johnny che ha spinto l'oggetto e l'ha spinto per un po' e a un certo punto lo ha lasciato andare quindi qui la velocità dell'oggetto era 0 e qui invece la mano gli ha fatto acquisire una certa velocità eh scusate qui diverso maggiore di 0 diciamo diverso a 0 ora a questo punto quindi tutto torna anche qui nel senso che finché la mano spinge esercitando una forza verso destra l'oggetto aumenta la sua velocità cioè ha una certa accelerazione verso destra e questo avviene fino all'istante in cui l'oggetto viene lasciato nel momento in cui la mano smette di spingere la forza istantaneamente smette di agire la forza non è qualcosa che viene immagazzinato la forza è qualcosa che agisce istante per istante quindi nel momento in cui la mano smette di agire la forza smette di esserci e quindi smette di esserci un'accelerazione verso destra e noi è qui che iniziamo a studiare il nostro corpo iniziamo a studiare quando viene lasciato e rallenta quindi senza farci tra un inganno da questa situazione in cui avremmo una forza effettivamente anche una forza verso destra siamo invece in quest'altra situazione in cui la forza verso destra ha cessato di agire e l'oggetto quindi inizia a rallentare fino a fermarsi quindi terzo punto della nostra scheda della nostra guida è impostare le equazioni usando il secondo principio e sostituire poi le formule nelle equazioni generali le espressioni particolari d'accordo? e infine risolvere le equazioni questi sono gli ultimi tre punti che adesso cerchiamo di mettere in pratica quindi il secondo principio è sempre uguale da scrivere una volta che abbiamo individuato le forze scriviamo un'equazione per l'asse x un'equazione per l'asse y se necessario un'equazione per l'asse z e ci mettiamo le nostre forze ora per scrupolo le metto tutte tutte ma naturalmente ci possiamo accorgere subito che alcune di queste componenti sono 0 intanto per cominciare forze attrite solo lungo x e quindi non c'è lungo y forza peso e forza normale non ci sono lungo x invece e infine siccome il motto avviene lungo l'asse x l'oggetto non sta accelerando lungo y sicuramente e quindi anche questo è uguale a 0 quindi ci siamo già semplificati un bel po' le nostre formule e che le nostre equazioni secondo principio diventano così a questo punto allora adesso provo a risolverlo allora come dicevo io vorrei farvi arrivare a risolvere come si dovrebbe i problemi dal punto di vista letterale e quindi per farlo già dall'anno scorso insomma ho cercato di proporvi a volte procedimento numerico e di fianco quello letterale quindi proviamo di nuovo a fare prima procedimento numerico e poi vedere come funziona nel caso letterale allora abbiamo detto per esempio di usare massa uguale 2 kg e accelerazione in modulo uguale 0,5 mentre al secondo quadrato allora a questo punto io devo ricordarmi i vari valori se voglio i valori numerici di queste forze quindi so che un modulo a forza di attrito è uguale a mu per modulo a forza normale quindi e se voglio ricavarmi questo devo naturalmente sapere quanto vale la forza normale quindi vedete che ho bisogno di usare entrambe le equazioni e infine abbiamo forza peso componente y so che sarà uguale a meno il modulo della forza peso quindi meno m positivo quindi è inutile metterlo dentro il modulo meno m per modulo di g che sarà circa 2 per 10 quindi circa meno 20 newton ok quindi abbiamo detto fgy uguale a meno 20 newton e in queste due equazioni quindi che sono un nostro sistema devono essere entrambe contemporaneamente verificate quindi ci possiamo mettere quello che abbiamo qui potremmo osservare che il modulo di n è uguale a componente y di n in modo che diciamo scriviamo queste due equazioni in modo che abbiano come è giusto che sia solamente due incognite e potremmo lo stesso modo scrivere apposta di n y modulo di n d'accordo non cambia niente questa cosa ovviamente non è universalmente vera è vera se guardiamo il nostro sistema di riferimento n verso l'alto verticale quindi ha solo componente y e la sua componente y coincide con il modulo quindi proviamo a riscrivere le nostre cose sostituendo i valori numerici mu per ny entrambe me le conosco e m per ax sono 2 per 0,5 o meglio stiamo anche qui attenti al segno ax è in base a quello che sappiamo deve essere negativa perché sta frenando l'oggetto quindi deve essere verso sinistra discorda la velocità quindi viene meno 0,5 per 2 fa 1 m al secondo quadrato ecco lascio non scrivo le equazioni le unità di misura per semplicità in queste semplicità di scrittura in queste equazioni e poi abbiamo meno 20 più ny uguale a 0 vedete che qui abbiamo un sistema di equazioni e due incognite che in matematica avete imparato a risolvere e quindi dalla seconda ricaviamo ny che è 20 20 newton giustamente quindi positivo e poi sostituiamo qui dentro viene mu per 20 scusato ho sbagliato scrivere fax di nuovo bisogna stare in dei segni dicevo è meno mu per n y perché mu per n y è una quantità positiva e invece la forza e attrito componente x deve essere una quantità negativa quindi ci va al segno meno me ne sono accorto perché altrimenti qui il mu mi venia positivo e sappiamo che il coefficiente attrito proprio come il coefficiente per esempio di elasticità della molla deve essere una quantità per definizione positiva d'accordo quindi qua mi deve venire meno mu per 20 qua meno 1 e quindi mu uguale un ventesimo che era quello che io volevo l'unità di misura di mu non c'è perché è un numero puro infatti qua sarebbero chilogrammi per mettere il secondo quadrato che sono newton e ny anche newton quindi mu deve rimanere un numero e quindi questo è il coefficiente di attrito d'accordo allora provo a rifare lo stesso procedimento però dal punto di vista letterale che secondo me è più istruttivo e in realtà io vorrei che voi provaste sempre a farlo perché è il nostro obiettivo come ho detto diverse volte per riuscire a risolvere i problemi in questo modo quindi provo a riscrivere le due equazioni riparto da queste e ci metto dentro però le formule che conosco quindi ok f a x sarà meno u per n come dicevamo quindi trovo la prima equazione e riscrivo un attimo f a x uguale n a x e l'altra era fgy più n y uguale a 0 ora qua ci inserisco dentro le formule che io conosco che abbiamo detto sono per il modulo a forza e attrito è mu per n d'accordo? che significa che la componente x della forza e attrito è meno mu per n ok? e che significa abbiamo detto meno mu per n y perché le due cose sono uguali quindi questo per quanto riguarda f a x e poi so che f a g y è uguale a meno il modulo della forza peso quindi vedete faccio la stituzione delle espressioni letterali anziché delle espressioni numeriche come ho fatto nel caso precedente qua mi viene meno mu n y uguale m a x qua mi viene n y uguale più m g perché sarebbe meno m g di qua ma lo porto a destra ora come ho fatto prima questo lo sostituisco qua e quindi ottengo meno mu m g uguale m a x e questo lo posso ricopiare quindi vedo una cosa molto interessante che qua m si semplifica e trovo mu uguale meno a x fratto g e questa è la nostra soluzione vediamo come mai vediamo se torna quello che abbiamo fatto prima beh a x l'abbiamo detto era meno 0,5 m al secondo quadrato e g circa 10 m al secondo quadrato e quindi questo viene circa 0,5 fratto 10 cioè un mezzo fratto 10 cioè un ventesimo il meno e il meno fanno meno un più e quindi rimane più un ventesimo mentre al secondo quadrato il numeratore e il denominatore si semplificano e rimane come giustamente come giusto che sia una quantità adimensionale e quindi ritroviamo lo stesso valore che avevamo trovato prima naturalmente ora il fatto è che qui io però l'ho risolto da un punto di vista letterale il che come ho già asservato diverse volte ha diversi vantaggi primo che l'abbiamo risolto in generale e non solamente in un caso particolare quindi se cambio i dati adesso non ho bisogno di rifare il problema ma mi basta cambiare i dati nella risposta e inoltre posso osservare cose più interessanti che prima non potevo osservare cioè per esempio che la massa in questo problema non conta per determinare coefficienti di attrito e quindi io posso usare oggetti di qualsiasi massa e perché non entra poi nel calcolo finale oggetti di diversa massa con stesso coefficienti di attrito appunto si arresteranno allo stesso modo in buona sostanza quindi quindi questo è quanto direi questa è la soluzione come strada coefficienti di attrito una cosa su cui non dobbiamo farci confondere in questa formula è farci confondere e iniziare a credere che coefficienti di attrito sia negativo in questa risposta perché noi sappiamo che l'accelerazione in questo caso è negativa infatti risostituendo il valore numerico viene comunque vedete un risultato positivo quindi il denominatore positivo numeratore negativo con il seno meno davanti dà giustamente un risultato positivo un'ultima cosa che volevo osservare per me di chiudere è questa come avete notato io non ho scritto direttamente forza attrito uguale a mu mg ma ho ricavato che la forza normale è uguale a mg è uguale a mg solamente in questo caso cioè quando è il piano orizzontale quando non ci sono altre forze e quando l'accelerazione su y è zero allora la forza normale e la forza peso sono opposte quindi uguali in modulo in tutti gli altri casi non succede quindi non succede su un piano inclinato non succede su un piano orizzontale ma in cui ci siano anche altre forze come abbiamo visto nel caso della slitta dell'arena problema 2 e non succede quando il piano per esempio si sposta verticalmente dando un'accelerazione verticale quindi quindi questo caso questa cosa è sempre da ricavare non è mai da dare per scontata e non è mai da dare per buona ci sono casi in cui sarà vero che è n uguale a mg e casi in cui non sarà vero quindi con questo mi pare che di aver fatto tutte le osservazioni che volevo e quindi chiudo qua studiate bene questo problema e andate a ripassare il problema su come si determina lo spazio del resto e ci vediamo presto ciao a tutti